Musica Musica L'inverno con la mia generazione Le donne curve sui telai vicino alle finestre Un giorno sulla prospettiva Agnieszki Per caso mi incontrai con Staviski E gli orinali messi in sottienti per la notte un film Di Eisenstein sulla ricolzione E gli orinali messi in sottienti per la notte un film Di Eisenstein sulla rivoluzione E studiavamo chiusi in una stanza La luce fiocca di candele e lampade a petrolio E quando si trattava di parlare Aspettavamo sempre con piacere E il mio maestro mi insegnò Com'è difficile trovare l'alma dentro l'imprunire E il mio maestro mi insegnò Com'è difficile trovare l'alma dentro l'imprunire E il mio maestro mi insegnò E il mio maestro mi insegnò Grazie, grazie, ciao a tutti, buon proseguimento.